Beh, direi che ormai gli strumenti ci sono per poter sfuggire ai baroni dello spettacolo, non sto a far nome, non ho sempre con le facce le stesse, questo mondo patinato alla decadente Grand Hotel, vecchio stile, una cosa proprio... Cioè, ma questo credono veramente di renderci dei coglioni sempre di più. Ragazzi, dico una cosa, abbiamo un grande strumento che è YouTube, la rete, è vero, poi piano piano verrà sempre più messa in sicurezza, però spero sempre con la massima libertà. Quindi abbiamo questa grande possibilità di fare tutti parte di un qualcosa di spettacolare nel rappresentarci come si voglia, sempre nei limiti della giusta decenza, perché è normale, anche perché non dimentichiamo che poi ci vedono anche giovani. Quindi io dico, ok, sì a YouTube, ma io penso una cosa, ma cosa sarebbe stato in quel laboratorio tanti anni fa sulle alture di Genova, dove insieme ad altri attori, sceneggiatori, siamo negli anni 80, inizi anni 80, si sognava di creare, di fare, e qualcuno ce l'ha fatta. Io purtroppo no, perché non ho potuto per vari motivi, vari motivi serie. Vi dico, quindi è sempre una cosa bella comunque avere questa possibilità di comunicare con qualcuno, di comunicare, di rappresentarsi, di creare delle cose, di dar spazio alla creatività, ecco, di incidere un silenzio, di muoversi in questo spazio e poi poter vendere quello che si, vendere, regalare, scusate, quello che si dice. Vi chiedo una cosa, fate qualche piccolo video anche per mio vlog di NessunBlob, perché comunque l'idea, mi dicono abbastanza carina e anche per gli amici che non hanno voglia di metterci la faccia, pensate ci metto la faccia io, quindi non lo so, e anche per loro dico, magari fate un audio, dicendo, prendo con la mano così, guardate, Francesco, guarda, dico una cosa, mi fai cagare, non mi piace, tranquillo, oppure, Francesco puoi andare a fare, bambina, c'è un perdita, dai, ma che cazzata è? Beh no, speriamo di no, dai, ora scherziamo un po'. Comunque, è un'idea che mi è venuta così, dai, postate qualcosa, se non volete metterci il volto per timidezza, però non mi piace, fate degli audio, coprite la telecamerina, l'obiettivo e poi dite quello che volete, ok? Quello che volete. Ciao, ciao a tutti.